Quante sono più alte le chance di avere una risposta positiva? Ora, questo purtroppo non è semplice quando voi siete a un livello principiante perché è una cosa semplice da capire a livello concettuale ma non è così semplice purtroppo da mettere in pratica perché vi cagate in mano, perché dite è troppo buona per me, è troppo alta qualsiasi convinzione limitante voi abbiate nella vostra testa e quindi in realtà la vostra esecuzione è debole proprio per questo voi dovete farvi questo culo stratosferico il primo periodo perché questo in un certo qual senso funziona fondamentalmente da una sorta di periodo di esercizi di inner game cioè voi dovete dare a quella che è la vostra mente la convinzione data su, o meglio creata da dati di fatto cioè dal fatto che voi state vedendo queste cose che questa cosa è realmente possibile cioè che voi potete realmente fare questa cosa e una volta che il vostro cervello capisce che questo è possibile a quel punto voi iniziate ad avere spazio nella vostra testa per quelli che sono i pensieri di tipo tecnico perché molti di voi mi hanno detto io ho difficoltà a mandare avanti quella che è la conversazione, giusto? secondo voi è più facile o più difficile mandare avanti una conversazione nel momento in cui siete lì che dite oddio che cazzo dico dopo oddio questa mi sta per mandare a cagare oddio quale sia la preoccupazione che avete in questo momento in testa piuttosto che pensare solo a come dovete muovere il piede, la mano, la testa andare indietro scorreggiare dal buco del culo piuttosto che quello che è se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo uno iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo dove ti do informazioni che qui su youtube non posso darti il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione due in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step e tre purtroppo hai i links in descrizione non trovi tutti i corsi alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter e rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare stop non scappare subito primo ricordati di iscriverti al canale secondo vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo in questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo quindi clicca il link a destra per accedere a questi video ciao da Joe di Seduzione Attrazione Grazie a tutti